Adesso vogliamo approfondire una storia commovente e ricca di coraggio, ma anche di spiritualità. Parliamo di una figura straordinaria, di un sacerdote, Don Giuseppe Morosini, che è stato anche un partigiano della Resistenza, ma preoccupato e impegnato, ecco questo lo vorrei chiarire subito, non tanto e non solo nel sostenere le ragioni e i piani di questa parte politica a scapito di quest'altra, ma soprattutto e proprio in quanto sacerdote di difendere gli ultimi, di essere per adesione al Vangelo con gli ultimi e con gli ultimi fino alla fine. D'altro canto ha voluto anche essere però, e questo è innegabile, pietra d'inciampo, coraggiosamente e senza sconti nei confronti dei tiranni di ogni stagione. Buon pomeriggio allora ai nostri ospiti e lo do molto volentieri a padre Giuseppe Guerra, che è un vincenziano, questa è la cosa importante da dire della congregazione dell'Opera di San Vincenzo dei Paoli, ma è lo stesso ordine di appartenenza di Don Giuseppe Morosini, di cui condivide anche il nome padre Giuseppe, però io li distinguerò così, Don Giuseppe Morosini lo chiamerò Don Giuseppe, mentre il nostro padre Giuseppe lo chiamerò padre, va bene? Tra l'altro so che è il generale alla Curia di Napoli, giusto? È il superiore provinciale della provincia del sud Italia, Giuseppe Morosini, il padre Giuseppe Morosini apparteneva alla provincia centrale Roma. Di Roma, certo. A fianco al nostro padre Giuseppe c'è anche Antonio Molfese che è un medico, benvenuto dottore, è un medico in pensione, ma soprattutto Antonio ha realizzato una grande opera fotografica che oggi è incisa su un DVD e si tratta di una raccolta di scatti, i più belli, potremmo dire i più significativi, di Don Giuseppe Morosini. Allora, io comincerei raccontando proprio padre Giuseppe di Don Giuseppe Morosini, nacque a Ferentino, in provincia di Frosinone, fu ordinato sacerdote, poi nel 43, in piena guerra, fu trasferito a Roma. E qui è vero che il suo servizio cominciò con 150 bambini che erano alloggiati in una scuola elementare, nel quartiere della Vittoria, quindi più piccoli. Lei ha detto molto bene all'inizio, la posizione antinazista, antifascista in cui si è trovato padre Giuseppe Morosini non è nata da una ideologia, da un'appartenenza partitica o politica, ma proprio, possiamo dire, dal suo impegno di sacerdote, di Vincenziano, a favore dei bambini, a favore degli altri. E in questa opera lui si è trovato contro questa ideologia nazista che ha trovato crudele e opprimente. E quindi, di fatto, poi si è trovato a favore di questi partigiani che lottavano per la libertà e per un impegno migliore. C'erano in quel periodo molti militari sbandati, c'era confusione, dottor Malfese, c'era paura. E Don Giuseppe Morosini, e ve lo chiamano Don Peppino. Don Peppino, sì. Don Peppino, chiamiamolo così, lo sentiamo più vicino, abbiamo visto degli scatti già, no? E lui difendeva tutti e quindi, in quest'ottica, come spiegava padre Giuseppe, l'aiuto ai partigiani per proteggerli, per salvarli anche, ricordiamo, che rischiavano la vita sotto le violenze dell'ideologia nazista. Tanto che lui si stierò a favore e sostene la banda Fulvi che operava a Montemario e quando poteva diceva messa negli anfratti perché non c'era possibilità di poter dire messa in una chiesa. Quindi si raccoglieva con i partigiani e diceva messa, cercava di portare il loro conforto. Poi accadde che proprio per aver difeso una di queste bande, averle in qualche modo confortate, anche spiritualmente, celebrando la messa con loro, no? Le forze tedesche erano schierate sul fronte di Cassino, ma un delatore, cioè un informatore del regime, diciamolo chiaro chiaro, un traditore, ecco, segnalò Don Peppino alla Gestapo, che, lo ricorderete, era la polizia del regime, la polizia segreta. E' qui che accadde. È vero che fu arrestato Don Peppino? Certo. Il delatore, dietro un compento di 70.000 lire, almeno si dice così, denunciò Don Giuseppe Morosini. La Gestapo operò una ispezione nel luogo dove lui abitava, via Pompeo Magno, e trovò delle armi. Quindi questo lo portò ad andare in cella, fu messo a Regina Celi. Dove? A Regina Celi. A Regina Celi. Fu imprigiata a Regina Celi. Si cercò in tutti i modi di salvare Don Morosini, perché addirittura intervenne il Papa, che scrisse a Hitler di salvare Don Morosini, però non ci furono risposte. Perché da parte nazista c'era l'ordine dell'intransigenza, questo lo dobbiamo ricordare in maniera chiara, anche nei confronti di atti di clemenza. Vorrei tornare su questo elemento con Padre Giuseppe. La presenza del Vaticano spesso si accusa di troppi silenzi, invece no, la diplomazia... Ha difeso tanto i ebrei, ha difeso tanto gli ebrei, e quindi questa accusa contro Pio XII di una specie di... Spesso è veramente ingenerosa, invece, rispetto a tanta diplomazia che fu mossa. Gli storici seri sono tutti d'accordo, anche da parte ebraica, gli storici seri sono d'accordo che questa accusa è del tutto falsa, e anche poi, dopo alcuni anni, cominciata dopo alcuni anni per ragioni strettamente ideologiche. Torniamo però a Padre, a Don Giuseppe Morosini, perché una volta in cella, Dottor Molfese, è vero che fu anche torturato, letteralmente massacrato di botte? Sì, fu torturato, tanto che, insomma, non riusciva a parlare, e così, insomma, infierirono sulla sua persona perché era un simbolo. Le voglio dire ancora di più, non fu fucilato alle fosse ardiatine perché volevano dare un segnale, doveva essere fucilato da solo, perché doveva essere un segnale per tutti quelli che si opponevano alle forze tedesche. Tanto che fu fucilato a forte bravetta, però si ebbe il, così, il plotone di esecuzione. Ci arriviamo, la voglio fermare, Dottore, perché nel carcere di Regina Celi, subito dopo il pestaggio di Don Morosini, ci fu un incontro. Con Sandro Pertini. Sandro Pertini, sì. In quel carcere c'era Sandro Pertini, che poi sarebbe diventato il settimo Presidente della Repubblica. Un incrocio di sguardi con Don Giuseppe Morosini. E Pertini scriverà questo, il volto tumefatto grondava sangue come Cristo dopo la flagellazione, con le lacrime agli occhi gli espressi la mia solidarietà. Egli si sforzò di sorridermi, le labbra sanguinarono, nei suoi occhi brillava una luce viva, la luce della sua fede. Don Giuseppe, sono parole straordinarie quelle di Pertini per il nostro Don Peppino, pestato, ma che aveva il volto luminoso di fede. Eroico. E' commovente questo incontro, posizioni diverse, ideologicamente parlando, politicamente parlando, Pertini e Don Morosini, ma si incontrano in questo eroismo, in questa generosità e in questa ammirazione reciproca della testimonianza fino alla morte. A Forte e Bravetta è stato accompagnato da Monsignor Traglia. Ecco, il 22 febbraio del 44, e quindi torniamo al racconto del dottor Molfese, il tribunale tedesco condanna Don Peppino Morosini a morte. E l'esecuzione avviene il 3 aprile di quell'anno. 3 aprile, sì. Ma quell'alba fu molto particolare perché Don Peppino fu raggiunto in cella da Monsignor Bonaldi, che era il cappellano del carcere, e pochi minuti dopo arrivò anche il futuro cardinale Traglia, che era il vicegerente per la città di Roma, e che aveva ordinato proprio sacerdote Don Peppino 7 anni prima. Qualche anno 7, sì. Qualche anno prima. Allora, dottor Molfese, l'attimo dell'esecuzione è quello che fa riflettere. Perché Don Peppino si ritrova di fronte a lui un plotone di 12 militari e l'ordine di sparare. A quel punto accade qualcosa di inimmaginabile. Certo, il plotone di esecuzione con gli occhi, si parlano con gli occhi e tutti sparano al lato, per cui la persona non viene colpita. Quando vanno per accertarsi della morte del condannato, l'ufficiale tedesco, con un lato di impazienza, estrae la pistola e uccide Don Morsini. Quindi il plotone alla fine si astenne dallo scaricare i mitragliatori, fu l'ufficiale a dargli il colpo finale. Ma è vero che un attimo prima di morire Don Giuseppe trovò la forza di pronunciare queste parole, padre perdona loro perché non sanno quello che fanno? Beh, questo noi l'abbiamo visto dal filmato, ecco, da Roma Città Aperta che riporta questo episodio. Noi non possiamo sapere perché unici spettatori all'esecuzione di Don Morosini erano i ragazzi dell'oratorio che presero parte all'esecuzione. Noi vediamo la foto di Aldo Fabrizi che qui interpretava il ruolo di Don Pietro nel film che citava, Dottor Molfese, Roma Città Aperta di Rossellini e quel ruolo, oltre che da Don Pietro Pappagallo, fu ispirato proprio da Don Peppino Morosini. Che cosa ci insegna questa figura? Dicono che Monsignor Traglia gli abbia detto lungo il cammino per confortarlo, gli abbia detto coraggio, coraggio, e lui ha detto ci vuole più coraggio per vivere che per morire. Questo significa che quando si affronta con coraggio la vita, le prove della vita, allora si si trova anche in grado di affrontare il momento della morte. Io penso che Don Morosini è stato proprio così, ha imparato a morire, cioè a darsi per gli altri giorno per giorno, e quando è arrivato, giovane in effetti, perché ha 31 anni, ha 31 anni, giovanissimo, ha dato la vita. Padre Giuseppe, io stringo tra le mani l'immaginetta di Don Giuseppe Morosini, e nel titolo è stata scelta una frase di Gioele che mi ha fatto molto riflettere, dice trasformate le vostre asce in spade, le vostre falci in lance, anche i deboli abbiano il coraggio di combattere. La frase che è scritta nel retro dell'immaginetta, questa qui, anche i deboli abbiano il coraggio di combattere. Io non amo la violenza, diciamo così, però credo che il senso di questa frase di Gioele, padre Giuseppe, lei ce la può spiegare meglio, cioè che la forza della fede deve trovare il coraggio anche di affrontare le situazioni più torbide, più difficili, con la radicalità del Vangelo. Io credo che lui, come sacerdote, che si era preparato al sacerdozio, ha studiato la teologia, ha studiato anche Sant'Ommaso, e Sant'Ommaso dice che in alcuni casi l'amore per la verità e per la pace e per la libertà deve essere in grado anche di affrontare, non dico con la violenza cieca, ma con la forza, che è una virtù. La forza fidei. La forza, sì, e sapere affrontare, lui l'ha fatto in coscienza, prestando questo aiuto ai partigiani, questa solidarietà ai partigiani. Certo, non tutti si sono trovati a condividere dal punto di vista delle ideologie, delle soluzioni. Certo, diciamo così, le circostanze storiche cambiano poi nei secoli. Però davanti a Dio e nella sua coscienza lui è stato generoso fino all'eroismo. Vorrei chiudere con il dottor Molfese, questo è il DVD che è stato realizzato su Don Peppe Morosini, Don Peppino. Sì. Lei ci ha fatto vedere anche molte immagini, sono andate in onda, le abbiamo viste adesso mentre siamo stati in conversazione. Perché realizzare un'opera fotografica dedicata a Don Giuseppe Morosini? Perché io ho avuto l'onore di avere un premio Don Morosini a Ferentino l'anno scorso, nel 2013, e io non sapendo cosa fare per ricambiare questo grande dono, ho pensato, anzi mi sono informato, che non era iniziata la causa di beatificazione o per meglio dire il processo canonico e ho detto vediamo di dare una spinta, un risalto e incominciamo a mettere qualche cosa per cercare di dare quello che merita Don Giuseppe Morosini. Non è qui, però mi chiama in causa Padre Giuseppe, non posso non chiedere a Padre Giuseppe che è stato postulatore di molte cause, continua credo a collaborare con la congregazione per le cause dei Santi. Padre Giuseppe, la risposta? Don Giuseppe Morosini sicuramente è stato un martire, nel senso che noi diamo a questa parola, quando ci riferiamo alle persone che danno la vita, la vita per gli altri. La frase di Gesù riportata nel Vangelo, non c'è amore più grande di questo, dare la vita per coloro che si amano. Però poi in senso più tecnico, più specifico, la Chiesa non può beatificare, non intende beatificare, canonizzare, portare tecnicamente col titolo di Santi tutti quelli che danno la vita per svariate ragioni e in diverse circostanze, si limita a quelle persone che direttamente danno la vita per la fede, che sono uccise in odium fidei, come si dice, a causa della fede. In questo senso Don Morosini tecnicamente non è stato ucciso per la sua fede cristiana o perché era sacerdote. Resta però l'esempio, la testimonianza. Io voglio ringraziare il dottor Molfese e soprattutto anche il nostro padre Giuseppe per essere stati ospiti qui con noi questo pomeriggio.